un altro grande classico che io consiglio ai proprietari come gioco è la pallina varie dimensioni dai 5 cm di diametro passiamo ai 7 di questa ci sono pallina in gomma magnetiche pallina con una consistenza molto diciamo morbida palle in tela francese e palloni con il maniglione comunque sia io consiglio sempre pallina con la corda e perché consiglio sempre pallina con la corda intanto perché ci sono palline che magari sono di una certa consistenza di un certo materiale e possono diventare anche viscide con la saliva e quando si gioca con il cane c'è anche il pericolo che il cane possa ingoiarle la corda oltre a essere un buon strumento per poter fare relazione con il proprio cane è anche un salvavita in certi casi in quanto attraverso la corda io posso proprio estrarla dalla cavità orale se dovesse succedere che magari il cane inavvertitamente la ingoia ok quindi da questo punto di vista io consiglio sempre palline con la corda varie consistenze vari materiali vi mostro questa si chiama sui ball è una pallina con il vuoto all'interno molto resistente e con la la corda qui legata praticamente all'interno della pallina è interessante perché mantiene attivato il cane per la sua consistenza è molto appagante quando viene morsa altro tipo di pallina è questo ci sono varie misure come si diceva poco fa si passa dai 5 cm della più piccola fino ai setti della più grande sono palline di una consistenza un po più dura rispetto a quelle che abbiamo visto poco fa sono molto interessanti perché hanno sempre questo cordino sono resistenti molto utili per fare dei giochi di attivazione con il nostro cane utili nelle sessioni di obbedienza o anche per cani che fanno ricerca o comunque sport di utilità un'altra pallina che volevo mostrarvi questa è una pallina magnetica interessante perché per quei conduttori che magari vogliono cimentarsi in gare sportive o sono appassionati di prove di lavoro questo è interessante perché soprattutto nelle sessioni di obbedienza è possibile metterla in vari punti per stimolare il cane e per aiutarlo a mantenere una posizione soprattutto nella condotta la pallina si può mettere in varie posizioni è interessante per questo motivo qui è sempre dotata di corda è molto resistente e anche la consistenza è una consistenza non troppo dura quindi piacevole anche ai cani più sensibili se al vostro cane non piace il vinile o non piace la gomma e questi materiali diciamo gommosi che vi ho mostrato prima vi consiglio di provare palline in tela francese come questa molto utile per lavori per quanto riguarda l'obbedienza di attivazione motivazionali li possiamo usare come abbiamo visto poco fa come le palline in gomma e utili nelle sessioni di addestramento quando vogliamo fare condotta e obbedienza ci sono dimensioni di questo tipo qua che vanno bene per questi lavori qua se invece il vostro cane fa difficoltà un po per le dimensioni un po perché non è abituato a giocare con la pallina vi consiglio eventualmente di provare palloni di questo tipo qua che io nelle fasi iniziali abbino ad un cordino come questo che mi aiuta a stimolare il cane e farlo appassionare a questo gioco come mi avete visto in un altro video lavorare con il bite rug anche questo può essere un buon stimolo per certi cani per appassionarli a questo gioco qua posso aiutarmi addirittura calciando il pallone e facendo questi movimenti diciamo oscillatori dove il cane si accinge ad afferrare questa preda che è sicuramente più motivante rispetto a una pallina più piccola quindi vi ho fatto un po una panoramica di questi giochi come avete visto la cosa importante secondo me è che abbiano sempre il cordino sia per un discorso utile per le attivazioni come abbiamo visto e per attivare i nostri cani e motivarli nel gioco nel rapporto con noi e sia per un discorso di sicurezza perché se abbiamo magari un diametro piccolo che può diventare vicido con la saliva può essere ingoiato e questo può essere un salvavita il cordino quindi vi consiglio di usare sempre palline con la corda